Allora, andiamo con la concorrente numero 4, Giulia Pronta, perché... Pronta, anzi... Ora che c'è questo? Questo show nasce dalla mia esperienza personale con i disturbi depressivi trasportati all'interno di una favola dark. Paure, ansie, un equilibrio precario sempre sul filo del vuoto. Ogni giorno è una sfida. Forse un giorno potrò essere nel tutto free, anche io, o forse no. Intanto mi basta esserlo su questo palco, ora. Numero 4, Tessi Cola! Inferno 4, Tessi Cola! Grazie. 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 Grazie.